Buona giornata a tutti ragazzi, allora intanto io penso che conosciate già l'applicazione OneFootball Allora io vi lascio il link nel primo commento nella prima riga in descrizione e vi invito a scaricarvela se non l'avete ancora fatto È un'applicazione molto interessante perché a parte vi aggiorna come è normale dei risultati praticamente in tempo reale Non che vi arrivano le notifiche dopo un minuto dal risultato, dal gol e quant'altro, vi arrivano praticamente in tempo reale E poi vi aggiornano soprattutto sulle trattative di mercato, ma le trattative quelle vere non quelle inventate È veramente interessante come applicazione quindi veramente vi invito a scaricarvela E tra l'altro, vabbè, anche appunto grazie a OneFootball sto un po' seguendo anche le trattative di altre squadre che non mi interessano di solito Che comunque stavo guardando un po' le notizie di OneFootball tra le ufficialità e tra le trattative Ed è per questo che poi ho visto l'Inter ad esempio quanto stia facendo cacao in questo calcio mercato Come si suol dire Penso che dopo la Juventus sia la squadra che sta facendo meglio, assolutamente Poi da qua, cioè, poi vabbè, c'è un discorso di soldi dietro, cioè nel senso che molti mi chiedono Ma come mai l'Inter e il Milan con il problema del fair play finanziario adesso possono spendere tutti questi soldi Allora, a parte che l'Inter ha preso De Vrij e Asamoah, parametro zero Nainggolan è probabilmente stato l'unico pagato, ma anche sottopagato, diciamolo Ehm, poi chi cazzo ha preso? Politano, vabbè, Politano è l'unico giocatore probabilmente pagato a dismisura E vabbè, quella è una scelta societaria Però per quanto riguarda il resto, ragazzi, stiamo facendo un'ottima squadra Inutile negarlo, perché comunque hanno Andanovic, hanno, adesso non so Eh, Versalico hanno preso, Versalico Poi, De Vrij, a parametro zero Poi hanno ovviamente anche Come cazzo, mi sfugge il nome del difensore centrale dell'Inter adesso Non Miranda, ma Madonna Quando ho i voti di memoria, quanto mi fanno girare il palle Vabbè, comunque, avete capito Ehm, poi Sulla sinistra Adesso non mi ricordo neanche di che cazzo hanno Vabbè, comunque D'Albert Vabbè, questi giocatori qui Poi il centrocampo, però In teoria dovrebbero usare il 4-2-3-1 Con Borja Valero E poi, appunto, c'è questo Questa richiesta Questa richiesta che è uscita ieri sera All'inizio sembrava Vidal Vidal, però, non Non gradirebbe la destinazione per il passato juventino che ha avuto E l'Inter starebbe sognando Modric Per quanto mi riguarda Tra Vidal e Modric Ovviamente, come tecnica, come forza, come potenza Di giocatore È meglio 10 volte Modric Però, però Però, non è solo questo Il motivo per il quale è meglio Modric È un discorso anche di Tattica Perché, alla fine Vidal è una fotocopia di Nengolan Nengolan lo usi come trequartista Praticamente, dietro Ai cardi, no? E quindi Di fianco a Non so, a chi cazzo A Brozovic, penso, vabbè Anche là Brozovic Eh, il problema è che Brozovic è molto simile a Modric Non dico che ha le stesse caratteristiche Attenzione, non dico che Anzi, ha le stesse caratteristiche Ma non dico che è forte quanto Modric Però, tanto per farvi vedere Quindi, Vidal Sarebbe una fotocopia di Nengolan E Modric sarebbe una Sarebbe una fotocopia È un po' forzato Però Ha le stesse caratteristiche Brozovic Quindi, due che impostano il gioco Praticamente Bisognerà vedere Perché Io, per quanto mi riguarda Ok, Nengolan ha fatto le migliori stagioni A trequartista Però Qualora arrivasse Modric Che adesso Molti dicono Impossibile Io dopo Ronaldo alla Juventus Non do nulla Per impossibile Magari per improbabile Per Poco probabile Ok Ok Però Modric Alla fine Cioè Qualora Arrivasse all'Inter Io affiancherei a Modric Nengolan E lo Arretrerei Trequartista Secondo me Ci vuole un giocatore Che sia Trequartista Puro E poi Comunque Basti Guardare No Appunto Modric Adesso Non è già Dell'Inter Questa Questo è un sogno Più che Una realtà In questo momento Anche perché Gli ultimi due colpi O l'ultimo colpo Che l'Inter Dovrebbe fare Lo dovrebbe fare Con prestito Con obbligo O diritto di riscatto Appunto Per non Sforare Il fair play finanziario Io dubito Che in questo momento Modric Cioè Modric Avrebbe detto Anche Sì All'Inter Alle sue condizioni Però Cioè 10 milioni e mezzo Prende Modric Però Dubito anche Che Perez Lascia andare Dopo Ronaldo Anche Modric Con un prestito Soprattutto Anche perché Siccome Fucilano Perez In piazza Madrid Se succede Una cosa del genere Quindi Sinceramente Non Non Vedo Cioè Per carità La trattativa Ci sarà anche Però Da qua a dire Che si concluderà Anche perché Ragazzi Ragioniamo Mancano 16 giorni Alla fine Del calciomercato Qui in Italia Quindi Insomma Per imbastire Queste trattative Ci vuole del tempo La Juve Con Ronaldo Aveva iniziato A ragionare Un mese e mezzo Prima di chiuderla La trattativa Vabbè Comunque A parte questo L'Inter Sta facendo Comunque Uno squadrone Per me L'Inter Veramente In questo momento È la seconda Forza Del campionato Poi Il mercato Appunto Alla fine Del mercato Mancano 16 giorni Quindi non possiamo Dirla Definitivamente Questa cosa Però L'Inter In questo momento Assolutamente È la migliore Squadra Dopo la Juventus Sulla Carta Perché sul campo Poi cambiano Come dico sempre Le cose Le carte in regola Le carte in tavola Cambiano Ok Quindi Non si può Assolutamente Adesso dire Fare già Tirare conclusioni Insomma Vabbè Comunque Per me In questo momento L'Inter Sta facendo Un grandissimo Calciomercato Veramente Grandissimo Cioè È quello Che non Capiscono Altre realtà Come Roma E come Napoli Perché È vero Che la Roma Comunque Sta prendendo D'esempio La Juventus Però Comunque Sta prendendo Giovani La Juventus A livello Internazionale E l'Inter A livello Nazionale Stan Decidendo Praticamente Di fare Questo Instant Team Cosa Significa Cioè Una squadra Per il momento Per l'istante Per tentare di vincere Una La Juventus In Europa Subito E una E l'altra In Italia Subito Cioè l'Inter Quindi Però Qua mi sorge Qualche dubbio Cioè La Juventus Cioè Inizia a pensare A una cosa del genere A Ronaldo Ad esempio Dopo Sette anni Di fila Di vittorie L'Inter Non ha vinto Un cazzo In questi sette anni E da dove Trova questi soldi Ripeto Poi ci sono Molti parametri Zero Che ha preso E quindi Ok Però Per l'ultimo colpo Che si parla Appunto Di Ovidal Che comunque Non verrebbe A costare tantissimo Perché da quello Che si parla Che si dice Sarebbero 20 25 milioni Ma soprattutto Modric Che per me Per meno Di 100 milioni Da Real Non si muove E lui Non si abbassa Di sicuro L'ingaggio Bah Io Io Su questo Su questa cosa qui Rimango molto scettico Poi Per il resto Ripeto Il fatto che Molti dicono In questo momento Ma l'Inter Dove trova Tutti questi soldi Per i colpi Già avvenuti Alla fine Una grandissima cazzata Perché se noi guardiamo Sono giocatori Presi A parametro zero Appunto E O Pagati poco Il fatto che comunque Scelgano ad esempio Un Inter Rispetto A un Napoli O Una stessa Roma A parte N'ingola Che comunque Parte Partito dalla Roma Vi fa capire Che comunque Alla fine ragazzi Quelle tre squadre Volete Vogliate O non vogliate Per 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 la storia Soprattutto Vengono scelte Dai giocatori Poi Questo Fatto Che comunque Adesso Molti giocatori Stiano pensando Di venire in Italia Probabilmente È anche grazie A Cristiano Ronaldo Che è venuto Alla Juventus E questo E questo è un dato Di fatto Per me Perché Inbastire Una trattativa Uno o due anni fa Per un Modric Era impossibile Per me Era veramente Impossibile Pensarlo Adesso che Modric Avrebbe detto Addirittura Sì all'Inter Perché comunque Gioca la Champions Quest'anno Per me È comunque Grazie All'arrivo Di Ronaldo Alla Juventus Tutto qui Comunque Fatemi sapere la vostra Io penso che Veramente l'Inter Stia facendo Una bella squadra Poi ripeto Bisogna essere bravi A mettere i giocatori In campo Perché anche il Milan L'anno scorso Sembrava Sembrava A voi Non a me Di sicuro Una grandissima squadra L'Inter Quest'anno Ha fatto veramente Una grande squadra Rispetto all'Inter Al Milan L'anno scorso Perché l'Inter Ha preso giocatori Già pronti Ok Nainggolan 31 anni Adesso non mi ricordo Quanti anni ha Però È già pronto È un giocatore Che comunque Ha già giocato La Champions League È forte Ha Ok Fatto una stagione Sottotono L'anno scorso Però comunque È un giocatore pronto De Vrij Comunque Vabbè Conosce la serie A Asamo A Ha giocato già Ha vinto Con noi Ha giocato già La Champions League Asamo A A sinistra Non da Albert Scusate Asamo A Altro giocatore Che molti Giuntini Adesso Sminuiscono Ragazzi Asamo A Se non avesse avuto Tutti quei problemi fisici Per me Asamo A Sarebbe stato Uno dei terzini Migliori D'Europa Ok E l'anno scorso Asamo A Non ha avuto Tanti infortuni Ed è stato Di gran lunga Superiore Ad Alexandro Cerchiamo di essere obiettivi Noi Non facciamo come gli altri Quindi Asamo A Per me A zero Se non avrà Tanti problemi fisici Per me Per l'Inter È un grande colpo A zero Ok Detto questo Fatemi sapere la vostra Sotto nei commenti Fino alla fine Sempre comunque Forza Juventus E comunque Per il momento Complimenti all'Inter Perché sta facendo Un mercato ragionato Intelligente E dopo la Juventus Perché comunque La Juve ha preso Ragazzi Anche quelli che Adesso dicono Questa trattativa Qualora Qualora andasse in porto Iguain al Milan E Bonucci E Caldara al Milan E Bonucci alla Juventus Ragazzi La Juventus ha preso Perin Cancelo Poi Che cazzo ha preso Vabbè Spinazzola L'avevamo già preso Emre Can Dura scosta L'abbiamo riscattato Quest'anno Cioè ragazzi Come si fa A dire Il mercato della Juve Perde di un voto e mezzo Il voto finale Ma come cazzo si fa Come cazzo si fa Cioè Cancelo Per me Potenzialmente E lo dicevo L'anno scorso Che l'aveva preso l'Inter Potenzialmente È uno dei terzini Migliori D'Europa Da una parte Abbiamo Cancelo Dall'altra Alessandro La punta centrale Sarà Cristiano Ronaldo Mettiamocelo In mente Perché adesso Sembra Dopo tre settimane Già l'entusiasmo Ha sparito Sembra ormai Eh Ronaldo Di qua Ronaldo Di là E si sminuisce Anche questo colpo Molti hanno detto Addirittura Se dovevamo Cedere Caldara Che abbiamo detto Insomma Cannavaro Caldara Abbiamo detto E Iguain Che ha 31 anni Comunque Per prendere Bonucci A quel punto Era meglio Non prendere Ronaldo Cioè ragazzi Chiudo il video Perché Io queste cose Non posso neanche Neanche Discuterle Perché Questa è una grandissima Se dimostra La grandissima ignoranza Del tifoso Medio italiano Perché non è solo Juventino Ma italiano in generale Che va Va dal Vinceremo tutto Al siamo fu tutti Questo Purtroppo Questa è la realtà Vabbè Buona giornata a tutti Fino alla fine Forza di Ventus E fatemi sapere la vostra Sul mercato Dell'Inter Il primo momento